Rapina aggravata. Con questa accusa, gli agenti della volante della questura di Rimini hanno arrestato domenica sera tre giovanissimi rumeni. Si tratta di una ragazza a ventenne che fungeva da palo, mentre i suoi complici, un ventunenne ed un venticinquenne, agivano all'interno di una bigiotteria in viale regina Elena a danno del gestore, un bengalese di 32 anni. I due si sono appropriati di braccialetti e di una cover per telefonino. Il negoziante li ha colti subito in flagranza, invitandoli a risistemare la merce, ma i due ladri hanno reagito minacciandolo e strattonandolo per la camicia. Dopodiché sono fuggiti, prendendo il cellulare del malcapitato. Quest'ultimo però si è messo l'inseguimento dei ladri insieme ad un ristoratore, chiamando contemporaneamente la polizia. Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della questura. A quanto pare questi giovani rumeni erano predoni abituali della zona. La probabilità insomma si desume dall'azione criminosa, che queste persone fossero avvezze nel loro comportamento, nelle loro condotte, a tenere un atteggiamento comunque spropositato e nei confronti di chi prendevano di mira, in questo caso il negoziante del negozio di bigiotteria, ecco chiaramente in maniera spavalda. Durante la perquisizione la polizia ha invenuto addosso a uno dei due rumeni un iPhone che risultava essere rubato la notte prima al cocorico di Riccione. Inoltre la polizia ha scoperto che i tre stranieri sono indagati per altri reati. Inoltre queste persone sono comunque sia destinatari e portatori di precedenti per reati contro il patrimonio, anche a sfondo sessuale, anche recenti, per i quali sono in corso delle indagini.